Giorno Ruttofili ragazzi oggi è giorno di festeggiamenti ho già il cintone qua pronto il quadretto che ho vinto ieri sera io ringrazio tutti i presenti a RuttoSau 2022 dal primo all'ultimo ragazzi è stata una serata fantastica ieri sera dopo tanti anni dopo due o tre anni insomma il pubblico in presenza è stata veramente una figata tutti i partecipanti dal primo all'ultimo ringrazio ringrazio Stefano Morselli che mi dà sempre l'opportunità di esibire RuttoSau ragazzi è stata veramente una figata ricordate che RuttoSau è una manifestazione a scopo benefica perché tutto il ricavato va a www.gretti.it per la ricerca per le malattie del santo io dedico la vittoria a tutti voi ragazzi vi avevo il mio gin tonic oggi pomeriggio sarà a Firenze loco vedremo a matti insieme al placebo quindi farò qualche storia mi farò rendere in partecipi della mia giornata insomma ragazzi grazie di cuore anche Skip è contento come il trotto storia ragazzi un saluto da mesi ragazzi 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 ragazzi